680 posti sottratti alle emissioni in ruolo. La denuncia è della Will Scuola Puglia che sottolinea come a fronte dei 2861 posti vacanti di personale docente in Puglia, il Ministero dell'Istruzione abbia autorizzato soltanto 2181 emissioni in ruolo, non tenendo in debita considerazione, fa sapere il Segretario Generale del Sindacato Gianni Verga, gli idoni del concorso 2020 e coloro che hanno superato tutte le prove del concorso straordinario appena conclusosi. Per Verga si rispettano gli obiettivi del PNRR a discapito della stabilizzazione e della continuità didattica. Ai 680 posti sottratti, prosegue il Segretario Will Scuola Puglia, si aggiungeranno i ruoli non assegnati, una scelta accelerata che tradisce le aspettative di quanti hanno creduto, studiando e lavorando come precari, di realizzare l'obiettivo di diventare docenti di ruolo. È necessario intervenire, e in fretta, con un provvedimento che modifichi la situazione che si è venuta a determinare. Oltre a deludere centinaia di aspiranti, così si mina l'efficienza del sistema di istruzione pugliese, perdendo ancora una volta l'occasione di stabilizzare tutti i posti e ridurre il tasso di dispersione scolastica. A voler pensare male, conclude Verga, sembrerebbe fatto apposta. Lo scorso anno, infatti, pur in assenza di aspiranti, furono autorizzate le emissioni in ruolo su tutti i posti vacanti, mentre quest'anno non vengono autorizzate le emissioni in ruolo su tutti i posti vacanti.